GERRALS EÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Italian job, Italian job We get the Italian mob to do the Italian job Italian, Italian, Italian Italian, Italian, Italian This life is all about decisions, but some of them we make too quickly Yeah, most times the decisions don't even affect us directly They say integrity is the shield, the greed and vanity Across the mile we visit your family, stop pulling leaves off your family tree Murder your sister, sister Leave her blood on the wall, she not even... Una carriera di altissimo livello per il pezzo mancante nello scacchiere Dynamo Ovvero Curtis Gerels, classe 87 in arte The Shot Soprannome affibbiatovi per il tiro in gara 6 della finale Scudetto contro Siena Strani giochi del destino di questo ragazzo texano cresciuto a pane e basket Nato lo stesso giorno di Marco Spissu E che ha come mito Mr. Big Shot, ovvero il vecchio fenomeno Chance Billups Gerels ha avuto in testa il basket sin da bambino Ha frantumato ogni record prima all'high school di Del Valle E poi a Baylor, Università d'eccellenza in orbita San Antonio Spurs Dove hanno usato l'NBA senza mai diventare un vero pro Ma facendo la scuola con l'attuale G League E' stato sempre non il migliore ma quello differente, vincente Come la sua nuova casa di produzione musicale Che lancia giovani artisti che si chiama Life is Respond Island Già, perché l'Island è un posto dove ci arrivi solo in barca o in aereo E perché ha quel fascino, quei sogni da posto speciale Ecco la sua isola dopo il giro dell'Europa Ha firmato con le più importanti squadre europee Tra cui il Partizan, il Fenerbahce e il Kazan Affrontando la Dynamo in Eurolega Milano e la Puel Gerusalemme Il posto migliore in cui è stato Poi è tornato in Italia sempre all'Olimpia Per essere ancora determinante Ora aveva bisogno di un ulteriore e diverso step nella sua carriera Quello di essere un giocatore ancora importante e determinante Come l'ho sempre stato per essere una combo guard da clutch moments Per essere uno da ultimi possessi Uno freddo, lucido Con grande intelligenza cestistica e fisico Ha vinto campionati ovunque, ha vinto partite ovunque Ha spazzato record ovunque E' il perfetto complemento per Marco Spisso Quello nato il suo stesso giorno Quello mancino come lui Quello con la faccia tosta come lui Strani giochi del destino Quando incontrava Sassari diceva che un giorno gli sarebbe piaciuto giocare per la Ginamo Ci arriva a ritmo di musica La sua seconda passione Coltivata professionalmente dopo l'infortunio al tenine da Killa Kazan nel 2015 Con i passi di salsa L'amicizia con Giazzo Wallace Che gli ha giustificato la curiosità per la musica country Da produttore di giovani talenti L'ultimo dei quali ha realizzato un video chiamato Italian Job A uomo degli ultimi secondi Da ragazzino tirava dal cortile di casa insieme a suo cugino All'isola dove tutto è possibile Sykes, Ivanovic, Trevor Lesi Tanti candidati per un posto alla fine ha vinto lui Deschat Uno dei giocatori più importanti mai arrivati a Sassari per palmaresse e carriera Scordatevi che sia a fine corsa però Ha fisico e fame come se fosse il primo giorno che entrò nella palestra del liceo del Valle Per iniziare a scrivere i suoi record Non giocherà 35 minuti ma si prenderà responsabilità Non deve avere medie pazzesche ma migliorare la qualità della squadra In Euroleague ha fatto vittime illustri Tra cui il Valencia e il Real Madrid Sa giocare il pick and roll come pochi Crea sempre vantaggio A tiro a uno contro uno A talento Gioca due ruoli A esperienza Non è un fenomeno Non ha più vent'anni Ma ragazzi Questo signore A pallacanestro Sa giocare come? Il Banco di Sardegna Sardegna arricchisce la sua presenza digitale con nuovi strumenti Pinti, il nuovo assistente virtuale Guida il visitatore verso i servizi di cui ha bisogno Sviluppiamo una strategia multicanale Capace di raggiungere tutti Banco di Sardegna Sempre più grande